Musica Bentornato Gutier, bentornata Iniziamo una nuova decada parlando di una funzionalità di programmi applicati al sistema operativo davvero eccezionale ti darò alcuni cenni su quella che definisco sperimentazione pura ti introdurrò alla virtualizzazione Cos'è la virtualizzazione? Tecnicamente è qualcosa di non reale in estrema sintesi ma puoi utilizzarla a tuo vantaggio La domanda che può nascere spontanea è come poter utilizzare qualcosa di non reale? Cerchiamo di essere un po' più precisi la virtualizzazione è sì un programma e in quanto tale può considerarsi reale nel limite del possibile ma quello che produce in realtà è una simulazione Essa crea un ambiente distaccato dalla realtà e permette l'utilizzo di sistemi operativi programmi, driver e qualsiasi altra cosa In poche parole, tramite dei programmi che installerai nel tuo sistema operativo potrai realizzare un ambiente virtuale con il quale poter agire in piena sicurezza però con una premessa d'obbligo ossia un adeguato approccio nelle capacità di utilizzo Bene, cerco di semplificare ancora installi il programma che realizza la virtualizzazione lo avvii e durante quella specifica sessione di utilizzo del programma tutto quello che realizzerai anche se ti sembrerà tale non sarà reale ma virtuale Immagina un illusionista che esegue dei giochi di prestigio in pratica Ti sembra di vedere qualcosa ma lui ti inganna con abilità Prima di entrare nel merito lasciami definire alcuni possibili impieghi della virtualizzazione In base al tipo di programma che sceglierai potrai realizzare la virtualizzazione del sistema operativo la creazione di una o più macchine virtuali la creazione di spazi isolati anche essi virtuali all'interno del tuo disco rigido oppure la creazione di uno o più lettori virtuali Programmi che eseguono queste operazioni che sono più utilizzate in ambiente domestico ne troverai molti alcuni più o meno efficaci gratuiti e a pagamento Non è questo naturalmente il momento di entrare nel merito d'uso dei singoli programmi in quanto lo farò più avanti nel percorso quando inizierò a descrivere le funzionalità dei vari programmi suddivisi per categorie In questa introduzione alla virtualizzazione ti cito cosa eseguono per grandi linee questi programmi Un primo possibile impiego è quello di poter virtualizzare il sistema operativo Questa tipologia di programmi permette di avviare un ambiente ossia il sistema operativo dal punto di vista della visione a monitor sicuramente reale o nelle operazioni eseguite certamente è reale ma tutte queste operazioni saranno temporanee In pratica ogni impostazione che eseguirà all'interno del programma del sistema operativo e dei driver ogni aggiornamento degli stessi ogni installazione e disinstallazione di programmi o driver all'interno del sistema operativo oppure il download dei file sempre all'interno del sistema operativo o qualsiasi altra azione eseguita nello stesso in termini del sistema operativo oppure nei programmi installati all'interno del sistema operativo sarà temporanea quindi reale soltanto per quella specifica sessione di lavoro ma non reale in termini definitiva ossia non permanente Ciò quindi sarà reale come ho detto soltanto per la durata di quella specifica sessione di lavoro in altri termini finché il computer è acceso o finché non riavvii il sistema operativo stesso In termini esecutivi ossia utilizzando il sistema operativo o i programmi avviati all'interno dello stesso non ti creerà una cognizione in grado di poter realizzare una differenza tra un'operazione virtuale e reale né in termini di azioni di operazioni né in termini di prestazioni di norma quindi tecnicamente tu non noterai alcuna differenza ma devi ricordarti che ciò che eseguirai all'interno di questa sessione di lavoro all'interno dei programmi e qualsiasi altra azione creata durante la sessione di lavoro virtualizzata scomparirà allo spegnimento del computer o al riavvio dello stesso facciamo un esempio pratico accendi il tuo computer e avvi il sistema operativo ora dopo che il sistema operativo sarà mostrato a monitor avvia il programma di virtualizzazione del sistema operativo ciò creerà naturalmente la virtualizzazione dello stesso in questa specifica condizione puoi provare a disinstallare dei programmi o a installarne di nuovi oppure ad esempio puoi provare a creare cartelle o immagini sul desktop bene ora riavvia il computer al riavvio avvenuto ritroverai i programmi che avrai disinstallato e non troverai traccia di quelli che invece avrai installato durante la sessione virtuale così come non troverai traccia di eventuali cartelle create sul desktop o qualsiasi altra icona in esso perché? perché l'hai creata durante una sessione virtualizzata non reale per cui queste azioni non sono reale dal punto di vista delle impostazioni del sistema operativo o dei programmi ora forse un pochino più chiaro qualsiasi cosa tu effetti al sistema operativo ai programmi in esso contenuti durante una sessione virtuale verrà eliminata al termine della sessione di lavoro stessa ma com'è possibile? potrai chiedere ma la risposta è presso scritta quando viene avviata una sessione virtuale si crea una copia clone del sistema operativo all'interno del disco rigido e questa copia clone rimane fin tanto che il pc è acceso viene ad essere cancellata al termine della sessione di lavoro ossia quando spegni il computer oppure quando riavvi il sistema operativo stesso in quest'ambito questa sessione operativa e tutte le operazioni eseguite viene cancellata in definitiva ogni azione operazione impostazione che esegui nell'ambito del sistema operativo clonato è sì reale per la sola sessione di lavoro in corso in quanto è realizzata su una copia clonata del sistema operativo stesso ma solo ripeto per quella sessione in pratica non vai ad alterare i valori i parametri le impostazioni della copia originale se esegui ad esempio il download della posta oppure di un file da un server abbigura a questo punto di salvare questi dati su una seconda partizione oppure su un'altra periferica altrimenti quando andrai a spegnere il computer ciò che avrai salvato sul desktop o nelle cartelle al suo interno durante la sessione virtuale verrà persa a cosa può servire tutto ciò a sperimentare isolare verificare ad esempio potrai sperimentare l'efficacia di un programma se rispecchia ciò per il quale lo stai valutando prima dell'acquisto e soprattutto verificare se dietro a un nome apparentemente innocuo si possono celare programmi malevoli che ti potrebbero contaminare il sistema operativo un riavvio e tutto sarà rimosso quindi via il malware oppure può isolare il sistema operativo e navigare con sicurezza su dei siti che potenzialmente possono essere pericolosi oppure così facendo eviterai di lasciare troppe tracce nella memoria del browser che potrebbero essere utilizzati per scopi loschi potrai altresì verificare eventuali conflitti tra i driver periferiche e il sistema operativo oppure tra i programmi e il sistema operativo stesso che installerai all'interno del sistema al presentarsi di eventuali conflitti un riavvio e cancellerà tutto e questa è solo una parte di quello che puoi realizzare tramite la virtualizzazione e non ti deve sembrare poco immagina altre situazioni in cui tu magari sei inesperto e non sai eventualmente come ripristinare eventuali danni che puoi procurarti durante la variazione delle impostazioni o ancora hai un figlio o una figlia immagina di potergli dare con una certa libertà l'uso del tuo computer in questi casi se tu puoi avere la ragionevole certezza che potrebbero nascere dei problemi dal punto di vista delle impostazioni o durante la navigazione di tuo figlio o tua figlia una contaminazione da virus ti sarà sufficiente un clic riavviando il computer e hai risolto il problema questa sì che è una bella sensazione di libertà non è vero? bene nella prossima lezione ti spiegherò altri possibili usi della virtualizzazione ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto